Sì, l'Abruzzo dice sì, piena disponibilità a discutere, perché noi non ci sottraiamo alla solidarietà avendone ricevuta tanta, però a certe condizioni. La prima condizione banale è che mi venga richiesto per via formale e siccome ospitare 70.000 tonnellate è uno sforzo impegnativo, siccome stiamo in un periodo particolare io ho anche poteri limitati e mi sto quindi assumendo una responsabilità politica enorme, chiedo che ci sia un atto politico del Comune di Roma, cioè di quello che questi rifiuti li ha prodotti, di quello che il problema ce l'ha, che mi scriva una lettera e mi chieda formalmente di fare questo atto, non che mi fa scrivere dall'Ama o per via formale attraverso le regioni. Deve essere chiaro che me lo sta chiedendo il Comune di Roma, che noi sono quattro anni che prendiamo i rifiuti della Capitale, lo scorso anno abbiamo preso 79.000 tonnellate, le abbiamo trattate, ma di queste quasi 12.000 sono finite nelle nostre discariche, questo non potrà più succedere. Noi ci chiedono 70.000 tonnellate, bene, 70.000 tonnellate stiamo approfondendo, a certe condizioni probabilmente è possibile che noi le possiamo trattare, ma certamente non siamo più in grado di ospitare in discarica lo smaltimento di niente, perché le nostre discariche sono capienti per i rifiuti degli abruzzesi e basta.